Da Mascelli sui giornale, nel primo tempo la Juventus di Udine non è sembrata nemmeno unita della squadra sbandata dello scorso campionato. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Tony Da Mascelli commenta il successo della Juventus a Udine sul giornale, la Juventus di Udine nel primo tempo non sembrava nemmeno unita, come direbbe l'ex premier Conte Giuseppe della squadra della scorsa stagione. Veloce e duro, il volto della chiesa, la rabbia di Vlaovic e la classe di rabbio erano la segnaletica fotografica ma la freschezza e la velocità di Miretti, Cambiasso e Wea, spiegano molte cose anche se, nella seconda metà, la squadra ha rivissuto la pigrizia e la noia dello scorso anno. Grazie per la visione!